Torna la terza edizione del Pindarock, Assessore Diago, un appuntamento importante dedicato soprattutto ai giovani. Certo, perché una delle cose importanti di questa città, non dimentichiamoci, c'è la grande popolazione studentesca, di tanti ragazzi che fanno l'università in questa città. E molte volte l'università e quel mondo sembra quasi sconnesso con il resto della vita in questa città. Invece questo bellissimo festival di Ben, che piacciono a tanti ragazzi di questa città, è un momento anche per unire i ragazzi di fuori dall'università per farli partecipare alla vita e al mondo studentesco. E per dare anche voce ai tanti ragazzi che studiano e vivono all'università e vogliono quindi anche un rapporto con noi, con la città, con il comune, il Pindarock mi sembra un'ottima occasione. L'obiettivo è anche quello di rivitalizzare ulteriormente anche la zona sud, la zona di Porta Nuova, Pescara, non eventi solo in centro ma anche in periferia. È vero, infatti è una zona bella e importante della città, vissuta appunto dagli studenti dove c'è l'università. È giusto che sia anche frequentata, ci siano iniziative anche più frequenti possibili per riportare anche al centro quella zona, e chi ci vive, chi vuole andare lì a vivere un'esperienza diversa musicalmente parlando in quella zona della città.